Ciao a tutte pasticce Allora, sono qua per registrare un get ready with me Non so se farlo tipo parlato Oppure no, comunque non vi spaventate Ad ogni cosa per la mia faccia Boh, non lo so Vediamo un massimo Poi vedrete la mia bocca Blah 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 Allora, sono qua 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 Allora, sono qua